Sì, il mio nonno faceva Pensava che gli stessero facendo una foto quando lo riprendevano Io sto facendo come lui, solo che mia nonno aveva più di 80 anni Io no Tu no, tu ne hai 31 No, neanche Sì, tu ce li hai No Tu ce li hai Adesso tutti lo sanno Adesso lo sapranno anche su Facebook e su Youtube No, no, no Allora, Sardegna Moto Tour 2010 E' un giga grande Guarda i pignoli Guarda la maglietta sarda La maglietta sarda Sarda Un birto Due birti Tre birti E questa sera, questa sera Pesce o aragosta O carne O porceddu O porceddu Pesce 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 tutta la vita Io gradisco anche il porceddo Anzi, quasi 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 andiamo da un amico di mia zia Ma è un amico di tua zia o un amico di tua cugina? No, è di mia Gina Oh